A Padova riapre la centralissima via del Santo che era stata chiusa lo scorso 14 giugno per lavori di rifacimento della pavimentazione e realizzazione di sottoservizi. 400 mila euro di lavori, 2850 metri quadri di posizionamento di questa bellissima pavimentazione. Ringrazio i commercianti che hanno supportato i lavori. L'arteria di unione tra via Zabarella e San Francesco e la Basilica del Santo torna dunque transitabile con varco 820 per le auto, anche se non si escludono modifiche relative alla possibilità di renderla pedonale così come è stata confermata già via San Francesco. E chi vive e lavora in via del Santo cosa ne pensa? Una vera pedonizzazione di questa seconda parte di via del Santo, cioè dalla sbarra verso via San Francesco potrebbe essere sicuramente migliore o perlomeno non fosse possibile la pedonalizzazione e eventualmente un controllo monitorato per ridurre drasticamente il traffico. La pedonalizzazione di questa strada come la vede? Beh io la vedo molto bene perché ovviamente noi avendo dei prodotti da passeggio saremmo molto contenti se questa diventasse pedonale. C'è un po' un conflitto fra macchine, moto, pedoni che si scontendono questo pezzo di strada. Vediamo se ce la godremo pedonalizzata o no perché questa è una battaglia penso ancora aperta ed è una discussione non semplice. Vedremo di studiare un piano anche per permettere soprattutto a noi commercianti un accesso abbastanza facilitato per il carico e scarico perché accetteremo anche la chiusura ma almeno un aiuto per chi ha l'attività economica.